buongiorno oggi vi presentiamo questa lente 10 ingrandimenti alto fattore vetro acromatico struttura in metallo diametro della lente 30 mm e come dicevamo l'ingrandimento è un 10x si tratta di un doppietto di alta qualità adatta ogni volta che si deve andare a vedere qualcosa di molto piccolo grazie per l'attenzione ci vediamo per il prossimo video